A Paramaribo c'è un ristorante italiano in Water Can 5, il D-Bug. Il menù comprende specialità italiane, tra le quali panini al formaggio e salmone, filetto al pepe, carpaccio al pesto, lasagna alla bolognese, artiolio, subufo, spaghetti e funghi, vitello tonnato. Se poi volessi andare in taxi al Central Market per acquistare del Black Hat, spenderei 5 dollari suriname per il taxi e 16 dollari per il group. E se volessi andare a bermi la bottiglia sul Water Taxi affittandone uno per un'ora, spenderei 50 dollari suriname. Ho deciso di andarmene dallo Yed per spostarmi a Toronto, anche se c'è più freschetto l'Ontario College of Act and Design sembra proprio interessante. Ho scelto il corso di Integrated Media e l'affitto di un appartamento in Darcy Street è di 600 dollari. Siamo a Durban e se oggi volessi andare dal Suncoast Hotel and Tower al Grayville Race Course in taxi, spenderei 33,70 za. Oggi ci sono 6 corse e i cavalli favoriti sono Smartal, Style of Grace, Mac M, Miss Chatty, Jenna The Pink Bracelet e Kevin's Boy.